Rilassamento per ipnosi regressiva. Chiudi gli occhi. In nessun momento sarai incosciente. Per tutto il tempo ti accorgerai di quello che succede. Qualsiasi pensiero, qualsiasi sensazione ti arrivi in mente, me lo racconterai. La mente inconscia usa molti metodi per comunicare. Non analizzare. Anche se avrai l'impressione che ti stai inventando tutto, qualsiasi cosa sia, non analizzare. Lascia fluire qualsiasi pensiero. Rilassa le tue braccia e il tuo corpo. Che niente ti distragga. Faremo qualche cosa che in medicina si chiama iperventilazione. E' una forma di respirazione che serve ad aumentare il volume d'aria nei polmoni. E quindi il trasferimento dell'ossigeno nel sangue. Mentre il tuo sangue arricchito di ossigeno comincia a circolare nel cervello, gradualmente comincerai a sentire delle sensazioni strane che si manifestano in modo differente da persona a persona. Ad alcuni gira un po' la testa. Altri cominciano a sentirsi un po' pesanti. Altri si sentono leggeri come se volassero. Perché l'iperossigenazione si manifesta in maniera personalizzata. Mentre l'ossigeno al cervello va aumentando, si potenzieranno le funzioni cerebrali e potrai ricordare eventi dimenticati. Riviere paure o tristezze. Risvegliare emozioni. Quello che succederà sarà indotto dalla respirazione. Nelle indicazioni. La respirazione è di volta, inspira aria lentamente, a poco a poco riempi i polmoni. Quando li senti pieni, lascia l'aria lì un momento Mentre mentalmente conti Uno, uno, e la liberi lentamente La seconda volta prendi più aria Riempi lentamente i polmoni e trattieni l'aria Due, uno, due, e la liberi lentamente La terza volta inspira più aria A poco a poco riempi i polmoni Trattieni l'aria Tre, uno, due, tre E libera lentamente La quarta volta prendi ancora più aria E la trattieni Quattro, uno, due, tre, quattro E la liberi lentamente La quinta volta prendi ancora più aria Riempi lentamente i polmoni E la trattieni Uno, due, tre, quattro, cinque E la liberi lentamente Adesso puoi respirare normalmente Facendolo lentamente e con tranquillità Ad ogni respiro senti questa sensazione sempre più profonda Potrai ricordare e rivivere momenti tristi o paurosi Qualcosa che ti ha vinto Quello che ti viene in mente Riempi lentamente e vivilo Sentilo Ritorna a quel momento Se era di giorno o di notte Sperimenta nuovamente quello che stavi provando Questa sensazione ti porta ogni volta Sempre più in profondità Più in profondità Adesso conterò verso il basso Da cinque a uno E ad ogni numero questa sensazione Ti porterà sempre più in profondità E quando arriverò ad uno Sarai molto in profondità Cinque Quattro Tre Due Uno Profondo Molto in profondità Torna ad un momento che ti abbia lasciato un segno Che tu ricordi Triste O una paura O una delusione Vivi quel momento Ne vai ogni volta Sempre più in profondità Più in profondità Più in profondità Più in profondità E di giorno E di giorno O di notte Vivi quel momento Ricordalo Pensa in questo momento Nella tua vita Che cosa sta succedendo Dove sei in questo momento Raccontami tutto Quello che sta succedendo